In questo video tutorial vedremo come inserire le preferenze per l'assignazione provvisoria di scuole, comuni, distretti ed eventualmente anche provincia. Andiamo a inserire, per quanto riguarda le preferenze, dopo aver compilato la domanda e aver salvato col tasto salva la domanda con successo, deve comparire una scritta verde operazione effettuata con successo, si può passare alle preferenze cliccando su voce preferenze. Inizialmente potrebbe esserci già qualche scuola inserita, se però si vuole inserire altre scuole, qui è per cancellare, ma se si vuole inserire una scuola basta indicare il distretto della scuola di riferimento, per esempio il distretto 31, dove ci sono i vari comuni, per esempio il comune di merito portosalvo, si clicca comune di merito portosalvo e viene l'intero comune, ma se si vuole invece di portosalvo andare a scegliere le scuole, ecco per esempio merito portosalvo la scuola del familiare di merito portosalvo, facendo salva troverete inserita come prima preferenza la scuola familiare di merito portosalvo, poi si può anche per esempio inserire interamente il comune di merito portosalvo, andando sempre sul distretto 31, cliccando si può fare l'intero comune di merito portosalvo, facendo salva andrete a vedere che avrete l'intero comune di merito portosalvo e anche il distretto perché l'avevamo selezionato precedentemente, se io voglio eliminare il distretto, faccio modifica, elimino con questo tasto il distretto e mi rimane il comune, se voglio invece inserire il distretto, faccio aggiungi preferenze, vado su voce distretto e faccio il valore salva e avrò anche il distretto messo dopo il comune, in questo modo, dunque oltre il comune ci sarà anche il distretto, dunque ho messo la scuola, il comune e l'intero distretto. Se la segnazione provvisoria fosse interprovinciale, ma non è questo il caso perché è provinciale, ci sarebbe anche la possibilità di avere attiva la voce delle preferenze provincia, in questo caso non è attiva e dunque non è opzionabile perché la mobilità annuale avviene all'interno della stessa provincia, come per esempio non è possibile cliccare il distretto 30 perché il docente è già titolare in quel distretto e dunque non può nel suo stesso distretto muoversi per una mobilità di carattere annuale. Speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori, seguiteci ancora perché nei nostri canali social, nei youtube, dunque facebook, nel nostro sito www.tecnascuola.it perché avremo modo di fare altri video tutorial sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!